E' una tradizione e non solo una festa perché racchiude in sé tanti elementi da creare un'unicità variegata, così come il vino che non è solo una bevanda ma contiene in ogni suo sorso i sapori della terra ma anche anni di culture e storie di popoli. Parliamo di sapori di autunno, la sacra del vino e del duva di Donnici, frazione di Cosenza. Qui il vino è di casa, ma essere di casa è soprattutto questa festa aggiunta alla 39esima edizione. Difficile di questi tempi trovare manifestazioni così longeve, ma giustificarne la durata e il successo che riscuote ogni edizione. Quella 2019 è stata capace ancora una volta di cogliere nel segno l'uva ma soprattutto il vino sono stati i grandi protagonisti del weekend appena trascorso e sono stati tanti i visitatori che hanno deciso di trascorrere almeno una serata nelle vie della frazione della città Abruzia. C'è chi ha preferito concentrarsi solo ed esclusivamente sul vino e chi invece ha scelto anche la gastronomia insomma per tutti i gusti ed anche la possibilità di ascoltare musica dal vivo per renderla due giorni completa sotto diversi aspetti. La 39esima edizione ha così chiuso i battenti ma il focus è già sulla prossima, un compleanno speciale, il quarantesimo, che sarà celebrato sicuramente nella maniera giusta.